Era una vera e propria banda organizzata, dedita ai furti d'auto di lusso in tutto il centro Italia ed in grado di mettere a segno colpi da migliaia di euro. Adesso i malviventi sono stati però fermati dai carabinieri di San Giovanni Valdarno al termine dell'operazione Driver. Le indagini erano partite da un colpo messo a segno lo scorso 4 dicembre a Faella, nel comune di Castelfranco Piendiscò. Qui la banda era riuscita ad introdursi in uno stabilimento di pelletteria ed una volta dentro, non curante della presenza di alcuni dipendenti e del circuito di videosorveglianza, era riuscita a trafugare una Land Rover dal valore di circa 70.000 euro, a bordo della quale era fuggita a gran velocità diretta verso le colline del Chianti. I ladri avevano anche manomesso il sistema GPS ed i movimenti della vettura per non essere individuati. Non potendo utilizzare il supporto tecnologico, gli investigatori dell'arma hanno così concentrato gli sforzi nell'esecuzione di indagini classiche. La svolta è stata poi rappresentata dall'individuazione dell'auto utilizzata dai malfattori per recarsi sul luogo dell'elitto e per allontanarsene una volta rubata la macchina presa di mira. Gli accertamenti sugli utilizzatori dell'auto hanno portato poi i carabinieri a concentrare gli sforzi tra la parte sud della provincia di Roma e quella di Latina. Da qui, grazie all'analisi dei tabulati del traffico telefonico, nonché ai servizi di osservazione, controllo e pedinamento, gli investigatori hanno arricchito il quadro indiziario, oltre che sul furto di Faella, anche su svariati altri colpi, tutti accomunati dal medesimo modus operandi. Nei giorni scorsi, poco prima dell'operazione di oggi, uno degli indagati, sottoposta perquisizione veicolare, era stato trovato in possesso di un disturbatore di frequenze, confermando così la tesi dei militari riguardo lo spessore delinquenziale del gruppo criminale, costituito da tre soggetti, tutti originari del Basso Lazio, veri e propri pendolari professionisti del crimine. L'operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura di Arezzo, ha portato adesso i carabinieri della Compagnia di San Giovanni a notificare due provvedimenti di obbligo di dimora nei confronti dei due principali indagati, nei confronti dei quali sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine alla Commissione dei Furti. I due, d'ora in poi, non potranno più uscire dal territorio dei comuni di Ardea e di Cisterna di Latina, dove risiedono. Il terzo indagato è invece destinatario di un decreto di perquisizione finalizzato ad incrementare ulteriormente il quadro indiziario.